Tutti gli esami e profili neurologici non lasciano dubbi, è affetta da S.L.A. La farò costruire laggiù, si chiamerà Lena. La casa è pronta. Tenetele voi, così tu e ragazzi potrete venire in qualsiasi momento. Fai ancora fatica ad entrare qui. Forse perché è stata una tua scelta, come se avessi voluto nasconderti. Mi spezzava il cuore vedere gravare su di voi tutte le mie difficoltà. La vita improvvisamente può toglierci tutto, ma non la capacità di amare. Ho fatto fatica anche io a comprendere la sua scelta. È un peso tanto grande, ma insieme sarà più facile portarlo. Sono felice ed emozionata di vederti. Voglio che mi racconti tutto di te. Ho fatto fatica anche io a me. So, io mi racconti tutto il nostro corpo e vorrei. E住 tante la sua scelta. yurito, i loro mi raccomand rede. Allora, perché ho fatto fatica anche io a me. Quindi, a me. E così, a me. Un'abbia. 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 Grazie a tutti.